Un appello a far sbarcare i migranti in mare attualmente a bordo delle navi ONG Sea-Watch Sea-Eye è arrivato da Papa Francesco durante l'Angelus. Da parecchi giorni 49 persone salvate nel mare mediterraneo sono a bordo di due navi di ONG in cerca di un porto sicuro dove sbarcare. Rivolgo un accorato appello ai leader europei perché dimostrino concreta solidarietà nei confronti di queste persone.